Nella tarda serata di ieri a Santa Cecilia di Eboli è stato arrestato in flagranza di reato un 27enne marocchino già noto alle forze dell'ordine. Alla vista dei militari, il ragazzo ha tentato di eludere il controllo cercando di darsi alla fuga, venendo prontamente intercettato e bloccato. Successivamente, sottoposto a perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di sostanza hashish. Il 27enne è stato poi condotto presso la sua abitazione per un'ulteriore perquisizione domiciliare, nel corso della quale è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente per un totale di 300 grammi, più un coltello e del materiale utile al confezionamento e suddivisione delle dosi. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Condotto in caserma per l'espletamento delle formalità di rito, il giovane è stato trasferito presso la casa circondariale di Salerno Forni in attesa dell'udienza di convalida. Grazie